Io finalmente non sono più all'interno dell'istituzione e come libero cittadino ma anche come ex commissario di polizia che ha partecipato, ha diretto, ha coordinato interventi anche di alleggerimento come viene detto quando ci sono delle manifestazioni non autorizzate, dico subito la prima cosa il giorno dopo siamo tutti bravi, nel caso di Specia abbiamo appreso dopo aver visto le immagini che più che una carica di alleggerimento c'è stata anche un'attività offensiva e quindi c'è stamento un eccesso di zelo, mi permette di dire una cosa però e lo dico appunto perché non ho più la responsabilità istituzionale, si può avere la massima stima, il massimo rispetto verso il capo dello Stato e avere delle riserve, non condividere appieno quel che lui ha detto senza tener conto degli effetti collaterali che contrariamente alla sua volontà poteva produrre, sta producendo e produrrà ancora a cominciare dal giorno dopo in cui quella macchina della polizia è stata attorniata da manifestanti, purtroppo si sta strumentalizzando anche le parole del Capo del Presidente della Repubblica, soprattutto da chi in questo momento pensa che anche senza rispetto della legge che impone una previa autorizzazione, c'è un diritto di manifestare costituzionale ma c'è anche un dovere dei manifestanti, adesso sappiamo che dentro quegli zaini ci stavano solo i libri, ma mettetevi nei panni di quei poliziotti che stanno dall'altra parte che non lo sapevano e che hanno l'ordine perché la legge lo impone la legge lo impone a non far passare quel che hanno di dietro, di passaggio proprio perché non sono stati autorizzati, dopodiché nell'eccesso di zelo qualcuno ha sbagliato, ma prenderselo con l'ultima ruota del carro a me pare una furbata per non assumersi le proprie responsabilità e una furbata onorevole Bonelli?